Bene ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Allora, il vostro insegnante di teatro mi ha detto che state mettendo in scena un'opera di Shakespeare. Sì, infatti l'ho proposta io perché voleva fare Romeo e Giulietta, però io ho proposto altro. In realtà l'ho proposta io perché tu non conoscevi altre opere. Ecco perché forse si fa sempre solo Romeo e Giulietta perché è il più conosciuto. Oh, ti smettila di fare sempre la saputella, eh? Sì, 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 ho saputo, ho saputo. Bene, allora oggi studieremo una figura molto importante e molto in quell'epoca. Qualcuno sa dirmi di chi si tratta? L'epoca, che epoca era? E intorno, allora Shakespeare dovrebbe essere vissuto intorno alla metà del 1500. Ma che bravo Gennarino, sempre quel tono sorpreso. Sì, 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 bravo signor Gennarino e signorino Mike sa dirmi qual era la figura di spicco dell'epoca, non so. Magari qualche monarca. Dai, ti ha praticamente dato la risposta. Allora, dunque c'era, ecco, Elisabetta prima. Elisabetta prima, sì, prima. E dopo? Ah, che simpatico. Bene, bene, molto bravo signorino Mike, molto bravo. Sì, oggi parleremo quindi di Elisabetta prima, la regina vergine e ultima monarca della dinastia Tudor. Allora, aprite i vostri libri di storia, prendiamo appunti. Mi raccomando che poi vi interrogo. Mamma mia, oh, ma che ce ne frega di questa, mo? Come che ce ne frega, è una delle più grandi regine mai esistite, ha lottato tantissimo per il suo paese. Oh, ma attenta, facevo così secchiona. Ma se ti ho aiutato io a studiare quando eravamo alle medie. In effetti è vero, Claudio, ti aiutava Melanie. Già, e, beh, sì, quello, insomma. Uh, quindi fra una ripetizione e l'altra poi vi siete innamorati. Non, che cosa? Non dire no, cioè, sì, ma, vabbè, ormai, quel che, insomma, fa parte del passato. Eh, già, sì, infatti, basta, non ne parliamo più. Però mi aiuti a studiare? No, fatti aiutare da Gennarino. No, che cattiva che sei. Allora, durante la lezione ho ripassato tutte le parti della regina Titania. Oh, certo, durante la lezione di storia perché non studiare teatro? Marina, avresti dovuto prendere appunti. Melanie? Che c'è? Mi posteresti i tuoi appunti? Dai, tu sogno di una notte di mezz'estate lo sapevi già a memoria. Io dovevo recuperare. Sei sempre la solita, Marina. No, non darle i tuoi appunti, Melanie, così non imparerà mai. Certo, te li darò, solo perché ti voglio bene. Oh, grazie, amica mia. Certo, se davvero le volessi bene. Oh, ragazze, dai, non litigate. Marina, prometti che però la prossima volta, la prossima lezione, prenderai tu i appunti. Perché nessuna di noi te li presterà più. Va bene, d'accordo, promesso. È che ci tengo a fare la regina dell'elefante. Ma per favore, tanto non avete nessuna possibilità contro Sabrina. E perché mai, Betty? Lei avrà anche studiato teatro e recitato e studiato a New York e... Beh, non è poco. Hai ragione, non è poco. Però, però, conta anche la passione. Insomma, io adoro Shakespeare, ci ho anche dedicato vari disegni. Davvero? Oh, Melanie, forse allora meriteresti tu la parte della regina delle fate. Sabrina è la migliore. Voglio dire, lei è mille passi avanti a tutte, almeno per quanto riguarda la recitazione. È così ovvio che abbia lei la parte. Io fossi Lola non ci avrei nemmeno provato. E poi... Melanie, non prendere in giro nessuno. Speri solo che Claudio abbia la parte dell'asino così da poter passare più tempo con lui. Ma per favore, non è una cosa che va in base a chi ha più passione per quella determinata opera. Dovete essere brave e convincenti e... Scusate, ma non lo siete state. Beh, Betty, non pensi di essere un po' di parte. Per me, Marine e Melanie sono state molto brave, calcolando che appunto loro non hanno mai studiato recitazione. Non hanno mai studiato recitazione? Ma per favore, Melanie già altre volte ha interpretato dei personaggi, non è vero? Ho solo tenuto nascosto il fatto di scrivere sul blog di Nobu per un breve periodo. Beh, hai detto poco. E quando hai finto di essere quella Mel, mettendoti una parrucca... Anche quello era per... Era per avvicinare Claudio. Ed anche questa volta non mi sorprenderebbe affatto se tu volessi la parte solo per stare più vicino a Claudio. In che senso che c'entra Claudio in questa cosa? Beh, dai ragazze, sono sicura che farà lui la parte dell'asino. Non ho capito. L'hai letto o no il libro? Allora, io ho letto solo le parti di Titania. Marine, dovevi leggerlo tutto per capire la storia. Sai cosa fa Titania? Sai che viene ingannata da Oberon, suo marito e... Viene ingannata, oh cielo, povera Titania. Meno male che hai studiato. Ho studiato solo le mie parti. Ma dovevi leggerlo tutto? Bene, già solo per questo per me sei fuori dalla parte. Ah, non vi do l'ora di sapere chi sarà la protagonista. Tu per chi tifo, Candy? Ehm, allora, sinceramente per me stessa. Solo perché voglio indossare le ali. Ehm, ok. Beh, non volermene, ma io tifo per Melanie. Perché lei ci tiene davvero tanto a questa parte. Oh, ciao Cosmo. Ciao ragazze. State ripassando la parte per la lezione di teatro. Beh, più o meno io non mi sono candidata per la parte della protagonista. Perché preferirei stare dietro le quinte. Come Mike. Cosa hai detto? No, niente. Solo perché non ci hai provato Glitter? Saresti stata una regina stupenda. Ehm, forse è meglio che mi vada piano piano senza farmi notare. Ehm, no, davvero, recitare anche nella parte della protagonista non fa per me. E poi, sai, Melanie ci tiene davvero tanto e... Certo, però, dovevi provarci anche solo a fare le altre parti. Perché devi restare sempre dietro le quinte? Vorrei fare i costumi. D'accordo, capisco. Tu invece? Beh, io ho fatto il provino per la parte di Oberon. Oberon? Il protagonista? Certo. Dopotutto sono cose che danno tanti punteggi, sai, sul voto finale e... Oh, giusto. Beh, wow, fantastico. Allora, ti favo per te. Grazie. Oh, ma guarda chi c'è, Glitter. Non ti ho visto ai provini per Titania? Perché non li ho fatti, Sabrina? Preferisco realizzare i costumi. Come sempre. Sabrina? Beh, non è quello che hai detto a Mike. E tu chi saresti? Sua madre? Sei venuta qui a difenderlo? Ah, ragazzi, per favore. Cosmo, ma che problemi hai? Ma tu che problemi hai? Che dici sempre che problemi hai? Ragazzi... Ehi, ehi, ehi! Allora? Che sta succedendo qui? Eh, nulla, professoressa. Professoressa, Cosmo continua a darmi i problemi. Addirittura, Cosmo. Ci spieghi meglio, signorino Mike. È geloso. Scusami, Mike. Io geloso di te. E perché, Mike? Cosmo, non mi sembra il momento adatto per far uscire il tuo senso dell'umorismo. Lo vede, professoressa? Mi prende costantemente in giro. Ma ti amo, non è vero. Prof, sono solo delle battute. Certo, certo. Tutti e due nell'ufficio della preside. Ne ho abbastanza. Ho già visto come vi guardate. Come ci guardiamo. Come due che non si sopportano. E non voglio di queste scaramucce qui nel collegio. Oh, forza, dalla preside. Non posso crederci. Non sono mai andato dalla preside in tutta la mia carriera scolastica. Beh, c'è sempre una prima volta, Cosmo. Non posso credere che mi stiano mandando dalla preside. Non ho mai avuto nemmeno una nota disciplinare. È tutto per colpa di Mike. Proprio non capisco perché Cosmo ce l'abbia tanto con Mike. Insomma, basta, vi siete lasciati. Che cosa vuole da lui? Beh, anche Mike, però... Oh, non cercare di difenderlo. È sempre lui che inizia a prendere in giro Mike. Ragazze, volete andare anche voi dalla preside? Oh, no, prof, stavamo solo parlando. Quindi alla fine siete andati dalla preside? Zah, che cosa vi ho detto? Vi ho messo in punizione? Certo. Una delle punizioni più orribili che abbia mai avuto. Per me è addirittura la prima. Tu ne hai avute molte. Dovremmo passare del tempo insieme. Oh, ma che cosa carina. Sta zitto, Claudio. Oh, dai, io la trovo un'ottima idea. La preside è stata davvero molto saggia. Così finalmente la smetterete di litigare. Oppure molto semplicemente litigheremo di più. Sono d'accordo. Visto? Già andate d'accordo? Che idea meravigliosa. Bene, ragazzi e ragazze. È stato deciso il ruolo per i protagonisti e per tutti gli altri. Allora, si facciano avanti per primi Oberon e Titania. Per Titania ho scelto... Melanie! Che... Che cosa? Professore, deve esserci un errore. Ah, bravissimo Melanie. Volevo farla io, ma... Sì, dai. Sono contenta che abbia avuto tu la parte e non quella Sabrina. Ah, che bello. Grazie mille, professore. Le prometto che non la deluderò. Ma non è possibile, professore. Posso sapere perché è stata scelta lei? Perché mi ha convinto di più. Tutto quel patos, quella passione per l'opera. Traspare dalla sua esecuzione. Ah, grazie. Visto Sabrina, è importante la passione per qualcosa. Non ci posso credere. Bene, bene, bene. Veniamo a Oberon. Io voglio fare Puck. Io voglio fare Puck. Io sarò Puck. Però Oberon ho scelto Cosmo. Un grande applauso. Che bravo Cosmo. È la parte del protagonista. Ma quindi non ho capito. Te sarai il marito di Melanie? Sì, sarò il marito di Melanie. Grazie, professore. Questa cosa ne è che mi garba tantissimo. Perché è la tua fidanzata? E poi... Stiamo solo recitando. E poi deve ancora uscire la parte dell'asino. Chi farà l'asino? Beh, per l'asino la scelta è stata molto semplice. Non ho dovuto pensarci poi tanto. L'asino lo farà il signorino Claudio. Ah, bello. Bene, bene. Mi è stata data la parte dell'asino. Bella cosa. Guarda che la regina Titania, per via di un incantesimo, si innamora dell'asino. Ah, sì? Ma ancora lo devi leggere? Ma io non ho capito. Ma ragazzi, ci avessi stato dato un compito molto facile. Potevate leggerlo in una sera, quest'opera. Concordo con Gennarino. Bene, bene, bene. Poi sulla bacheca del teatro dovrete affisse tutte le altre parti che ho segnato. Sarà un'opera magnifica. Signorina Sabrina, tolga quell'espressione dal volto. Certo. Vado a leggere che parte mi è stata data. Non posso credere che la parte della regina sia stata davvero data a Melanie. Ci sono rimasta molto, molto male. Voglio dire, io mi sono impegnata. Ho fatto tutto bene. Ho bisogno di tempo per riprendermi da questa cosa. Beh, Mel, quindi a quanto pare dovremmo studiare di nuovo insieme. Sì, ma ti avverto, Claudio. Per me è davvero importante questa rappresentazione. Quindi farai tutto per bene. Ne studierai tutte queste parti alla perfezione, ok? Sì, sì, va bene, va bene. Tanto, cioè, mi aiuti tu, no? Sì, ma fino a un certo punto. Vabbè, comunque dobbiamo andare a provare insieme. Ok, andiamo, dai, proviamo qualcosa. Non la sopporto. Non sopporto nessuno della Unicorn Squad. Mi portano via sempre tutto. Beh, lo sai che io ho avuto la parte di Puck? Buon per te. Oh, hai avuto la parte di Puck, eh? A cosa stai pensando, cara Sabrina? E forse potremmo rendere questa rappresentazione teatrale un po' più movimentata. Oh, ci sto! Ho, hai avuto la parte di Puck... Ho, hai avuto la parte di Puck... ...disi, guarda...